tutti i giorni, cioè tanto per capire un uomo normale, un uomo normale si mangia 2000 calorie al giorno, cioè lui mangia sei volte l'equivalente di una persona normale, lui è sei uomini, ma in che senso è che per l'allenamento che fa lui mangia 6 volte la quantità di cibo normale, ma poi lui è pacciocone, pacciocco, ah i sottotitoli li metto, ma in realtà più che sottotitoli raga non è, non è, non so i sottotitoli perché tanto non è che le cose che dice sono molto complesse se lui dice, lui ha una dieta, ha un dietologo che gli ha fatto una dieta precisa per l'allenamento, e tra altre cose lui ha anche detto che è veramente faticoso mangiare così tanto, cioè lui ha proprio detto che è veramente faticoso riuscire a mangiare così tante cose come quelle che mangia lui, perché lui mangia tutto il giorno, lui fa dei pasti tutti il giorno, quindi pranzo numero uno, otto uova giustamente, giustamente la colazione, la prima colazione si fa con cereali, otto uova altro che master chef ragazzi, otto uova a colazione si sta, poi quando caghi spari i fuochi dell'artificio dal culo ma anche lui dice che io non ho sempre fame, io mangio perché è la dieta che devo fare cioè lui ha proprio detto, la cosa più difficile di fare è quello che fa lui, lui ha detto non è allenarsi, è mangiare quello che devo mangiare tanto mettiamo le otto uova per colazione non sono nemmeno vicino a essere un bravo chef ma comunque beh ma tanto non è che devi essere uno chef lui pesa più di 200 kg raga, lui è due metri e qualcosa e pesa più di 200 kg e non è grasso eh, cioè si vede che non è magro ma non è che dici che è molto molto grasso eh oh una bella, una bella frittata di otto uova a colazione Flavia grazie per i tre mesi di risacco, non troverò per la matematica no non è 200 kg di muscoli perché è impossibile però sicuramente ha del grasso però non è che lo guardi e dici esatto, non facciamo le cuocere troppo le otto uova esatto, non facciamo le cuocere troppo le otto uova ma si dai raga cosa volete che sia? cosa volete che sia? 12 uova a pranzo ma qui squiglie ragazzi, qui squiglie 12 uova a pranzo ma si, a colazione scusate ma si dai dai cioè praticamente le galline ha delle galline in giardino che cagano 6.000 uova al secondo ma si dai raga ma questo è il primo pasto non è un pranzo questo è il primo pasto quindi queste sono circa buone se sono hungry alcuni giorni sono letteralmente non mangiare sufficiente sono hungry sono hungry sono hungry sono hungry sono hungry e poi altri giorni è tipo non sono hungry ma devo forciare la città quindi se arrivo all'interno se arrivo all'interno di due ore e non sono hungry sono delle giornate con molta fame e delle giornate che non ne ho però mangio lo stesso lo conosco ma non l'ho letto Witcher 3 è un'idea grazie per il giusto ma guarda che lui è un paciocone lui è un paciocone questo uomo è un rinoceronte si vede che non è magro però non è che lo guardi e pensi questo qui è enorme ovviamente non è che possiamo mangiare le 12 uova a secco ci vuole un po' di cereali ci vuole un po' di cereali con le 12 uova ragazzi se no che cazzo di colazione fate scusate tra l'altro non so se lo sapete ma Brian Sean lui non so se lo sapete ma lui ha fatto il record mondiale di canottaggio ma a caso cioè lui non ha mai fatto canottaggio raga lui un giorno ha provato e ha fatto il record mondiale di canottaggio ma per provare lui non ha mai fatto canottaggio in vita sua cioè va così proprio easy easy il regalo per i tre mesi di resub è avermi finalmente chiamato patatina e non patatino scusa mi faccio confusione spesso ti regalo i miei centotrecentesimi sir quasi piango per la commozione patatino che carina ciao André essere abbonata al canale è un vero piacere grazie per la compagnia che mi dai ogni sera con le tue live le adoro e ti adoro smack grazie mille per i sir patatina che carina ciao André sono uscito ora da lavoro vado a mangiare una pizza mi fa piacere che mi fai i compagni buona serata anche a me patatino buon appetito e grazie della compagnia grazie per i sir Brian grazie per la sub venuta per amate patatino buon appetito Dommaso cereali con latte e dodici uova ci sta i burli grazie per i tre mesi di sab un torre per amate patatino ma il trening è divertente la gente pensa che il trening è una cosa difficile ma non è divertente perché è divertente devo andare a lasciare e trainare e fare ciò che voglio fare ma questo è quello che aiuta a fare si ha ragione è quello che ha detto la gente pensa che la parte difficile sia l'allenamento ma l'allenamento dura poche ore e mi diverto fa mangiare tutto il giorno è faticoso è un male necessario poi giustamente dopo aver mangiato dodici uova un piatto pieno di cereali e latte ci vuole una bella scucchiaiata di burro d'arachidi raga ci vuole oh raga ci sta ci sta ci vuole così per mandar giù il tutto per mandar giù ragazzi per ungere un attimo mentre ti sia rimasto incastrato il cereale ragazzi una bella cucchiaiata di burro d'arachidi si unge per bene e va giù tutto voilà e va giù che è una meraviglia ah giustamente contiamo le calorie giustamente ma è buono 1200 calorie come primo pasto 1200 calorie come primo pasto è un buon inizio si è un buon inizio è un buon inizio è un buon inizio come primo pasto della giornata dai io se mangio quella roba ma dormito sul divano per cinque ore perché per digerirlo ci vorrebbe cinque ore di fila se faccio un primo pasto del genere svengo sul divano e dormo per dodici ore è passato circa un'ora dal suo primo pasto ora c'è il pasto numero due ha ragione è passato un'oretta dalla colazione adesso ora c'è il secondo pasto raga un'ora senza mangiare ciao andro e saluto da me e Fabio mio fratello vi saluto sia te che Fabio grazie mille per il cifratino adesso raga c'è il secondo pasto scusate è passata ben un'ora aspetta provano a ridere aspetta proteine in polvere barrette di muesli e burro d'arachidi oh ci mettiamo 80 grammi di proteine oh come secondo pasto un bello shaker con 80 grammi di proteine fate conto che più o meno andrebbe un grammo un grammo e mezzo per chilo a persona quando ti alleni in tutta la giornata cioè tu avresti bisogno in tutta la giornata di un grammo un grammo e mezzo di proteine sott'allenamento per stare bene ma con tutti i pasti qui lui si fa ho direttamente 80 grammi di proteine così a secco come con l'acqua ma no con latte crudo scusami con l'acqua con l'acqua mi deludo mi deludo scusami oh adesso come secondo pasto via di 80 grammi di proteine in polvere mi piace la traduzione automatica è solo un e proteine giustamente ecco è uno sarà 150 kg no lui è più di 200 kg zio lui è più di 200 kg oh vammola ecco qua 80 grammi di proteine si ma mi farei dire perché questo questo non è il pranzo cioè questo è il secondo pasto a distanza di un'ora dal primo 1050 calorie come secondo spuntino un'ora dopo la colazione no questo è stato quattro volte uomo più forte del mondo questo è stato quattro volte uomo più forte del mondo è il suo pasto è alto due metri e quattro e pesa 205 kg ve l'ho detto io vi hai appena finito una sigaretta modificata e ti è venuta una leggera fame leggera eh la tercipativa ah ok questo quello era il pasto numero 2 adesso siamo al pasto numero 3 ok la carne che prendi viene da una fattoria locale ma si guadagna a far sta roba e lui fa lo strongman fa le gare questo è il pranzo questo è il pranzo raga lui a colazione si è fatto 12 uova con cereali e latte e una cucchiaiata di burro d'arachidi un'ora dopo si è fatto 80 grammi di proteine in polvere con del burro e una barretta adesso è ora di pranzo adesso c'è il pranzo è quello che è quindi faccio e poi faccio una pasta regolare angel hair e poi ho fatto con una pasta rosa anche se spezza gli spaghetti io non gli dico niente lo stesso io dubito che qualcuno gli possa dire qualcosa sullo spezzare o no gli spaghetti ha spezzato però io nel dubbio così su dei piedi non glielo direi sai come perché poi magari metti che ti prende e ti spezza anche a te e ti metti in padella quello lui ti prende ti spezza e ti metti in padella diventa anche tu pasto dopo ciao andrea ciao grazie per il ciparatino spezzi non ho visto niente no ma poi lui è un pacciocone lui è gentilissimo però ragazzi lui l'ha detto che non erano chef l'ha detto sin dall'inizio che non era uno chef ragazzi l'ha detto che non era uno chef sarà più facile per lui da mangiare non ci avrà le padellone sembra agrid doppato come pranzo ci facciamo pasta con la carne immaginati immaginati di essere un ladro vedi questa casa qua comunque lui ha una bella casa grande perché i soldi li ha vedi questa casa qua sei un ladro entri per rubare e te lo trovi davanti cioè guardi mi arrendo mi arresto da solo mi arresto da solo faccio io vado io alla polizia giustamente questo è solo il suo pranzo questo è il suo pranzo 2200 calorie cioè il suo pranzo è 2200 calorie il suo pranzo è le calorie che una persona assume in un'intera giornata non per dire non per dire vabbè sembra ma infatti sarà una merda però lui mangia perché deve mangiare non è che mangia per farlo chef sì quella pasta è una merda non si può guardare ma alla fine lui mangia perché deve e giustamente tra un'ora un'ora e mezza si ricomincia a mangiare lui mangia lui mangia sempre tu ne passi la giornata a mangiare essere la moglie di quest'uomo deve essere un incubo cioè devi passare tutti i giorni a mangiare su facebook e instagram con shotify la c'entra questa roba raga è il terzo questo è il pasto numero 4 giustamente questo è il pasto numero 4 ragazzi dopo pranzo ci sta per digerire altri 80 grammi di proteine in shaker ci sta Michele grazie per i tre mesi di risarmi entriamo per il matto latino ecco altri 80 grammi di proteine ci sta raga ci sta dopo pranzo per digerire altri 80 grammi di proteine in polvere ci sta raga ci sta ci sta che butti giù digerisci invece che grappa il limoncello un po' di burro d'arachidi ancora siamo al cuo questo è il quarto pasto antartico grazie per aver giftato 5 sap patatino grazie 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 antartico grazie mille di cuore patatino veramente grazie mille di cuore grazie mille patato cos'è che ha preso scusa burro d'arachidi però questa volta ce lo facciamo con il latte è un po' di blueberry che danno un po' di mirtigli organici che danno un senso di freschezza che lavoro fa questo è l'uomo sta a gareggio per gli strongman è stato quattro volte è l'uomo più forte del mondo è più proteine che uomo c'è un po' di uomo in queste proteine sì infatti stiamo pronti per il pasto numero 5 perché dopo pranzo ci facciamo 80 grammi di proteine ma poi non è che siamo a cena c'è il pasto numero 5 tacchino 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 organico 5 kg broccoli io non posso immaginare cosa caga quest'uomo ragazzi se si mangia anche i broccoli c'è caga delle armi nucleari se cazzo una scoreggia ti intonaca il muro di marrone cazzo una scoreggia ti fa diventare il muro viola amore che carino appena 1400 calorie come secondo spuntino dopo pranzo dai raga che scarsitudine siamo al pasto numero 5 ragazzi il cane la cena di stasera ma immagina che buffa vedere lui con quel cagnolino lui esce fuori con sto cagnolino ah stiamo guardando il menù di stasera perché ovviamente questo è il secondo pasto dopo pranzo però raga bisogna anche tenere a mente che dobbiamo vedere cosa ordiniamo per cena c'è ragione mentre si mangia vediamo cosa mangiare anche stasera però vedi che è carino lui si chiama Brian Sean Brian Sean no l'audio c'è quindi non si sente un cazzo ma non è colpa mia adesso si va ok non sentivo niente però l'audio c'era siamo qui per ordinare della robina effettivamente questo è il pasto numero questo è il pasto numero 6 mi dia allora per cominciare mi dia 4 litri di coca cola per cortesia poi mi porti 6 pizze ah domani farà molti sforzi quindi beh raga ci sta un boccale da 16 litri di coca cola per buttare giù tutta sta roba questo è un altro chilo di manzo e patate perché si ragazzi il pasto numero 6 come minimo può essere solo un chilo di manzo lui la mucca la mangia viva cioè lui la mucca la prende la solleva e comincia a staccare gli pezzi di culo a morsi cioè un chilo di manzo va bene ci sta ci sta i suoi pasto giornalieri pesano quanto è giusto questo il pasto numero 6 è più o meno 3400 calorie giustamente il pasto numero 6 è più o meno 3400 calorie giustamente il pasto numero 6 è 3400 calorie hai troppo poche calorie per una manzo quindi con questo aggiunto il total di giornalieri ora siamo a 10.370 quindi questo è quello che stiamo per ora Siamo a più di 10.000 calorie ragazzi E ancora un altro pasto da fare Prima di andare a letto c'è un altro pasto da fare ragazzi ha ragione Cazzo scusa vuoi dire che vai a letto con solo un chilo di manzo? No ragazzi che scandalo Non si può andare a dormire dopo aver mangiato un chilo di manzo e patate con due litri di coca cola Esatto ci vuole lo spuntino di mezzanotte Dai scusami eh Si sta, si sta, ci vuole, è necessario Siamo già l'ultimo o no? Come puoi vedere c'è un po' di manzo oggi E io in realtà Perché del schienzo L'ultima notte Mi avevo avuto ieri Mi sono andato a casa Favamo un enorme allenamento E io ero un po' di manzo Ah abbiamo fatto un enorme allenamento e bisognava recuperare giustamente 100.000 calorie a settimana Più o meno Ci sta un po' di cheesecake come dolcetto prima di dormire E poi prenderemo anche delle proteine in polvere Perché ragazzi è giusto così Ragazzi è giusto così Cioè dopo aver mangiato un chilo di manzo Ci sta arrivare sera E ti fai un chilo di cheesecake Più altra proteina in polvere Tornato l'audio buono Altri 80 grammi di proteine in polvere Ci stanno Prima di andare a letto Ragazzi un po' di proteine in polvere Ci stanno dai Dice normalmente Io mi mangio due o tre fette di cheesecake Ma ne avanzano solo quattro Che fai? Lasci Ti mangi tutte e quattro le fette di cheesecake Ci mangiamo quattro fette di cheesecake E poi per il comprain Assatto È sempre gratuita Pasto numero 7 Altre 1600 calorie Lasci In totale oggi abbiamo fatto 705 grammi di proteine 705 grammi di proteine Considerando che ne servono una o due Per chilo corporeo Lui ne ha fatte 705 Vabbè Vabbè che ho Raga Che fa di lavoro sto qua? Fa lo strongman Fa le gare Raga ci sta 705 grammi di proteine Raga lui si è fatto quasi Un chilo Di proteine In un giorno Puro Pulito Un chilo Di proteine Gesù Grazie per i tre mesi dei salmi In tre mesi Ma ti no Ma la domanda vera è questa Quanto tempo ci impiegherà A cagare tutto quello Che ho mangiato Spero che faccia scaglioni Non tutti insieme Sennò ottura Tutti i cessi del paese Spero che faccia scaglioni Non tutti insieme Sennò ottura Tutti i cessi del paese Sennò domani Sarà un giorno Di grandi eventi Le sue effetti sono muscolose Domani Ragazzi domani c'è un contest da fare Anch'io spesso quando domani penso Vado a fare una bella corsetta al parco Mi mangio Un bue Quattro muche Un elefante Un rinoceronte Un ognue Alle olive 16 torte 15 piatti di pasta E 24 dessert A presto